Altre cose da fare lì? Sì, sì. Facciamo retrofonte e andiamo all'avamposto. No, no, andiamo all'avamposto adesso. Sì, proprio 3,60 dobbiamo fare. Guarda, ti faccio vedere. Apri le vele, vai verso... Punto all'avamposto. E proprio verso ovest. Cioè verso est, vai preciso. Apro le vele. Guarda mo', attenzione. Funziona all'infinito? No, no, è consumabile. Ovviamente puoi buttare giù anche le persone. Mamma mia, che figata. Ah, siamo nella tempesta. Eh sì, trattieni dai, cerco di uscirne fuori. Chi ci ha colpito? Ah, gli scheletri, porco Dio. Combatti! Combatti e ripara! Devo curarmi, mi hanno preso. Mi hanno preso da me. Devo impostare l'anghetto della vila. Combassa. Vela a metà. Siamo costretti a combattere. Devo riparare i buchi. Combatteremo, fratello, combatteremo. Vai, 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 vai. C'è la tempesta, stiamo andando a sbattere. Qualcuno deve pilotare. Eh, mo' ce l'abbiamo dietro. Ce l'abbiamo dietro, non è un problema. No, mo' non li vedo più. Ah, io non sono andato, io non sono andato. Ok. Fratello, per favore, vieni a pilotare tu, che devo riparare. Oppure ripara, non lo so, decidi tu. No, 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 vieni a sbattere. Vieni a sbattere. Vai. Ho perso il corno. No, è qui, è qui, è qui, è qui di vicino al timone. Cosa abbiamo preso? Cosa abbiamo preso? Eh? Cosa abbiamo preso? Niente. Si è fatto un altro buco. Si stanno sparando alla porta, poca mignota. Ok. Si hanno preso dal forte, sto cercando di allontanarmi. No, erano navi di scheletri a sinistra. Va, mi metto provento e vaffanculo. Si, scappiamo, scappiamo. Andiamo ad un altro avamposto, frate. Non è cosa. Oh, porca troia. Tutto. Apri le vele, apri le vele. Dove sta il... Dove sta il... Il corno? Dove sta il corno? Mi ha buttato fuori bordo. No, la nave non si muove, frate. Moto. Il Kraken! Non ci voglio credere, stai imbattando acqua. Porca merda sto riparando, spero. Sto cercando di salire sulla nave, non riesco. Ok. Ok. Ci ha preso, ci ha preso, ci ha preso, ci ha preso. Non ci voglio credere. Ok. Un tentacolo l'ho fatto. Vai, spara, spara, fratello. Io sto cercando di salire a barare la situazione più so. Spara tutto come lo puoi. C'è molto tappo qui. Già faremo, già faremo. Bisogna fare un altro tentacolo. Non ho cibo, devo curarmi se non muoio. Poi è un casino. Qui c'è un buco, lo riparo? Ripara, ripara. Butto giù pure sti stronzi di pirati. Spade da cannone. Eh, ci ha colpito. Sto riparando. Tu ripara, tu ripara. Dove cazzo sta? Eccolo. Manca poco per il kraken. Vai, fallo. Fallo un po' di secondo lì. Nooo, mi ha mangiato. Porca troia. Sto combattendo con il kraken. Cibo. Dov'è? No, sono morto, frate. Ben fatto, kraken. Non c'è più. Eh, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Frate, però sono morto e sto andando al traghettatore. Cerca di scappare dagli scheletri, se riesci. Sì, 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 sì. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Il tempo di uscire dal traghettatore arrivo, eh. Porca trota. Ingestibile. Ingestibile. Il timone è durissimo. Devi ripararlo. Se è ingestibile vuol dire che devi ripararlo. Porca merda. È morto? No, c'è il megalodonte. Fregatene, fregatene. No, megalodonte è messo. Prosegui sulla destra. Prosegui sulla destra. Io riparo ancora. Quasi c'è da riparare. Vediamo. No, cosa mi ha preso? Sono ancora quei pirati di merda. Vi affondo, pezzi di merda. Riparo sotto. Preoccupato. Aia. Ti prendo. Vai, curati. Sto cercando di svirare a sinistra. Non ce la faccio. Devo rallentare. Rallenta, 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 rallenta. Devo abbassare l'ancora. Il timone è ingestibile. A posto. Vendiamo, 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 vendiamo. Tipo prima di subito. Va, donna, porca, puttana. Che cazzo. E stanno ancora là. Ehi, frate, rivendiamoli, offondiamo. E vaffanculo. Aspetta, aspetta che... Prendiamoci. Ci abbiamo dei buchi ancora. Tu vendi, vendi. Io riparo. Vendi, 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 per favore, vendi. Tutte cose sto vendendo. Vai, vai. Vado, quanti soldi. Porca madonna. Quando hai vendito tutto, dimmelo, eh. L'ultima cosa devo vendere. Il corno della tempesta lo vendo? Sì, sì, vendilo, vendilo. Dobbiamo tirare l'ancora e dobbiamo levarci lì. Bene, bene. Vivo l'ancora. Non ti preoccupare, il riparo è eventualmente se urti. Sicuramente, ultimo un po'. Non ti capisco, non ti preoccupare, ma chi è la struppiera mazzata? C'è la muerta. Allora, sto. Stanno scappando. No, stanno dietro l'isola, dietro l'isola. Non andare verso la tempesta, gira a sinistra. Che sennò si incasina di nuovo la nave. Eh, lo sto girando tutto a sinistro. Sei stato bravissimo, frate. Eh, ce l'abbiamo alle spalle, li vedi? Aspetta che... Sì, li vedo, Momo. Ti accorcio. Esatto. Così giri più veloce. Frate. Sai che vuol dire che adesso mi scopo le loro mamme? Siamo aperto, frate. Vai, mezza vela. Ok, me la metto io. No, tu non c'hai capito in Ind. Lo stavamo combattendo col Kraken e siete venuti a romperci i coglioni. Quindi voi adesso... Non dovete morire. Peggio. Ma guarda che scappano, guarda. Ok, stanno girando, stanno venendo. Che cazzo. Riparo un attimo. Abbiamo dei buchi. Riparo io. Vai, ci sono, ci sono, ci sono. Cambio. Vai, ci sono, ci sono, ci sono. Sfondali, frate. Vai, 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 vai. Spar, spar. L'abbiamo affondati, l'abbiamo affondati. Ancora, ancora. Faccio qualche riparazione. E andiamo a luttare sti stronzi. Cioè, se pensavano a scacquatte, c'è essa. Ma stai rendendo conto che mi avrei da ammissione a studiare una giocareta, ammissione ammassuta a pacchetto devastato. La tempesta. La tempesta. No, gli ultimi, gli ultimi 15 minuti li salvo, eh. Gli ultimi 15 minuti li salvo. Li devi salvare, vedi.